E un suono antico ci introduce in una giornata particolare. Come no? La restituzione della mea da parte del conte Pier Sacone Tarlati al popolo del Fondaccio. Figlio del conte Tarlati che col pretesto di ballare insieme a lei l'aveva portata via. Si parla del 1337, durante l'assedio dei fiorentini a Bibiena, l'albero che venne bruciato dai Tarlati era proprio segno che intanto era addobbato con tutte le tovaglie perché doveva far vedere ai fiorentini che stavano fuori che Bibiena non aveva paura e aveva risorse per sostenere l'assedio per lunghissimo tempo. Un gran ginebro si brucia e uno si pianta. Il bello Cuomo ha ritrovato la sua collocazione naturale dopo la pandemia. Quest'anno ritrova la sua normale collocazione, Piazzolina, dove è la piazza che divide i due rioni. Quindi auspichiamoci che anche quest'anno ci sia una bella fiammata, che questa pianta possa bruciare bene e da qui che sia una buona annata per tutti. Torniamo qui in questa giornata del martedì grasso che per Bibiena e Bibienese è una giornata davvero di festa, di comunità. È bello poter vedere tutte le persone oggi qui presenti, tantissime, insieme a bambini, le famiglie, insieme all'associazione Carnevale Storia, dove devo ringraziare perché dietro il lavoro ai volontari c'è tutto questo, ovvero la vita della comunità è di festa. La cosa importante è che oggi abbiamo una bella mea, quest'anno abbiamo Elena. Elena Gentile, una bella ragazza che rispecchia proprio la nostra tradizione di ragazza popolare, una bella mora. Quindi siamo contenti che Elena abbia accettato questo ruolo. Bene, ci auguriamo che tutto proceda nel migliore dei modi. Siamo contenti per le edizioni che abbiamo fatto nei giorni passati, praticamente una bella giornata domenica. Con tanti spettacoli e oggi chiudiamo questo nostro Carnevale storico di Bibiena con questa accensione del bello pomo. La cosa curiosa è una sola, ma come mai ci dimentichiamo sempre di Francesco? Di Francesco? Eh, è cecco, non si può dire in televisione forse, però in un certo senso era rimasto vecchio e bastonato. Gli avevano portato via la ragazza, gliel'hanno restituita in abiti nobiliari. Che cosa avrà voluto dire? Io mi fermo qui, lascio all'immaginazione del pubblico. Signori, abbiamo un Gianni Verdi che è fantastico come sempre, dove le tradizioni nella sua vita veramente ci sono dentro completamente. Questa naturalmente è la cosa più bella. Se venissero su tanti bambini come è venuto e come è cresciuto proprio Gianni Verdi sarebbe molto bello. Ma su questo sta lavorando anche il Carnevale storico. Sì, quest'anno abbiamo coinvolto le scuole primarie e secondarie con un corso dove abbiamo portato musica, la nostra tradizione all'interno sia delle scuole elementari che delle scuole medie, facendo vedere proprio e illustrando quello che era la tradizione, quello che viveva realmente, ecco, la nostra cittadina in quel periodo medievale. Un periodo che forse è anche ormai lontano dai nostri tempi e quindi anche antipatico può risultare da studiare. Se però questa cosa si abbina a una tradizione ben precisa o a qualcosa che succedeva realmente in quel periodo, forse diventa anche più bello. E i ragazzi sono appassionati e oggi ne hanno dato dimostrazione in questi giorni, vestendosi e aderendo in tantissimi alla nostra manifestazione. E allora la musica di quel tempo, di quel 1337, è questa. Dame e cavalieri, genti del loco, genti del contado, lo nobile signor di Petramala, Pierzaccone Tarlati, signore di questa terra, ordina che pace sia fatta tra rioni della piazza e del fondaccio e che la bella mea al suo cecco sia ridata. Orso dunque, inizio ti dia alla gran festa, con giochi, canti, suoni e danze. E ciascun prenda il suo posto e sia contento con l'agullo a tutti di un buon divertimento. Il vicario Messor Lorenzo della Giaccia. Grazie a tutti. Bello pomo, ha bruciato come? Non bene, è un preludio di una cattiva annata, no. Non è tutto cattiva perché una parte ha bruciato bene. Ma questa sembra che sia più una tradizione perché il vento viene dal fondaccio, va verso Piazzolini e la fumica tutti. Daniele Sensi, colui che ha portato il Carnevale ad avere una medaglia, questo dobbiamo ricordarlo. E comunque è sempre una bella soddisfazione, no? È stata una grossa sorpresa e soddisfazione che comprova la nostra essere più antica d'Italia. Poi l'essere andati da Mike Bongiorno, da Pupo, insomma alla televisione continuamente, è stato molto bello. Chiamati in Val d'Aosta a suo tempo, in Val d'Aosta per riconoscimento alla nostra anzianità del Carnevale. Adesso andiamo a conoscere la bella Mea. Allora, Mea, Bartolomea, Elena Gentile, questo 2023 come l'hai sentito? Ancora c'è il Carnevale d'estate comunque. Beh, per ora è andato bene, il pomo tutto sommato l'ha bruciato male e speriamo di continuare così. Bellissimo, è un'esperienza unica sia da farla da questa parte che anche dalla parte dei figuranti in generale. È un'esperienza da fare sicuramente. Sindaco, l'appuntamento all'estate? Assolutamente, vi aspettiamo all'estate per la Mea, ma nel frattempo saranno tanti altri eventi, un calendario ricco di una comunità sempre in cammino. Dal bello pomo si traggono gli auspici per il nuovo anno e quest'anno purtroppo non ha bruciato bene. 2023, insomma, che anno ci dobbiamo aspettare? Quindi avete capito perché poi forse alla fine c'è anche il grido del CRI e CRI, sbaglio? Sì, è il grido che dopo iniziano i festeggiamenti e tutti passano il fiasco del vino uno con quell'altro cantando questa canzone. Sì, è il grido che dopo iniziano i festeggiamenti e tutti passano i festeggiamenti e tutti passano i festeggiamenti. Grazie!